Il linguaggio del corpo. Per alcune persone parte da come siamo vestiti. Non so se sia vero ma sicuramente il nostro abbigliamento è il primo messaggio che stiamo dando al nostro pubblico. Chi siamo e come ci poniamo di fronte a loro. E' quindi importante vestirsi in maniera corretta per la presentazione che andiamo a fare. E questo significa corretta adeguata al pubblico che abbiamo di fronte al contesto e anche al luogo in cui siamo. Dicono che bisognerebbe vestirsi allineati col proprio pubblico o forse un pelino meglio un pelino più formalmente poiché siamo in una posizione di gestione dell'evento. Ora l'importante è che il contesto sia anche adeguato a chi siamo noi. Ad esempio capita di vedere il presidente che va a visitare le truppe ed è vestito da militare. Questo ha un senso perché in molte nazioni il presidente è anche a capo dell'esercito.